Una tela settecentesca con cornice quadribolata, raffigurante l'agostiniano terranovese Beato Giovanni Guccio, una tela settecentesca raffigurante Sant'Agostino, una tela datata del 1627 raffigurante il ritorno d'Egitto ed ancora libri antichi e argenti, beni di inestimabile valore che erano custoditi nella chiesa Sant'Agostino in piazza Salandra a Gela. Erano infatti custoditi, adesso non ci sono più, da quando i frati hanno lasciato la struttura. Che fine hanno fatto? L'interrogativo se lo pone lo storico Nuccio Mule che già il 17 ottobre scorso inviò al soprintendente beni culturali di Caltanissetta e per conoscenza anche al vescovo della diocesi di Piazza Almerina una lettera con cui si chiedeva di sapere se i padri agostiniani di Gela, dopo aver lasciato definitivamente la chiesa e il convento, avessero chiesto l'autorizzazione a trasferire la serie di beni culturali assieme ad altro materiale di valore di varie epoche, il tutto già ampiamente storicizzato. Domanda che al momento attuale non ha mai avuto alcuna risposta. A questi beni così importanti dove sono finiti? Se li sono portati gli agostiniani e ci hanno graziosamente lasciato i beni culturali che erano dentro la chiesa. Non riesco a capire come mai se questi reperti, questi beni culturali che erano nel convento se li sono portati via, che erano, loro dicono, di proprietà esclusiva, mentre quelli della chiesa li hanno lasciati? E allora dovevano anche portarsi quelli della chiesa. Siccome il sottoscritto è convinto che il bene culturale che era nel convento, i beni culturali che erano nel convento, così come quelli della chiesa, sono di proprietà della città e non degli agostiniani, anche perché sono stati storicizzati. Per esempio la tela del 1627 è lì da circa quattro secoli. Quindi non vedo perché loro, se si siano portati via tutte queste enorme quantità di materiale, che non si riesce a capire quanti e quale. Ricordo che alle quattro di mattina hanno fatto un cambio e se li sono portati via per evitare eventuali proteste di parrocchiani e anche quella mia. Io per evitare di imbattare contro le istituzioni, contro gli stessi agostiniani, mi sono rivolto alla soprintendenza per capire se era legittimo questo trasferimento e in base a che cosa l'abbiamo fatto. Non ho avuto nessuna risposta, nemmeno una risposta di cortesia. Io già mi sto attivando per fare un esposto alle competenti autorità, perché non deve andare in porto questa cosa. Immaginate se domani se ne vanno via gli altri in ordini religiosi. Le chieste rimangono senza beni culturali così, è una cosa assurda. Si configura un reato, appropriazione in debita. Saranno le competenti autorità a decidere quello che è accaduto, se poteva accadere.